gloria a Dio. Oggi il titolo che andremo a trattare in questo tempo che abbiamo a disposizione è stato preso da un versetto di Atti 13.2. Il titolo è Come svolgere l'opera alla quale siamo chiamati. Questo titolo lo tratto da un versetto molto bello di Atti degli Apostoli capitolo 13.2 che leggiamo insieme in modo che possiamo già con la parola di Dio dichiarare questo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Io credo che una delle difficoltà che abbiamo come credenti discepoli di Cristo è quello di non sapere a un certo punto della nostra vita, nonostante gli anni passano, il tempo passa, di non capire cos'è quest'opera, cosa bisogna fare, a cosa Dio ci ha chiamati, qual è il compito che dobbiamo svolgere nel regno di Dio e questo purtroppo ci lascia perplessi. Stiamo lì seduti in una chiesa non sapendo cosa fare, dove andare, come lavorare per Cristo, per il regno di Dio e oggi voglio cercare in questo tempo prezioso di darvi chiarezza, mostrare come la parola di Dio ci dà modo di comprendere l'opera che lo Spirito Santo vuole fare in ciascuno di noi. Ora c'è una cosa che mi piace dire, forse a tanti è una cosa nuova, è una rivelazione, ve la dico con la parola di Dio. Non tutti sanno, forse la stragrande maggioranza delle persone, dei credenti, che c'è un versetto biblico, un versetto nella parola che identifica la nostra chiamata. Forse nessuno l'ha mai insegnato, ma io ve lo trasmetto così come io apprendo dalla parola di Dio. C'è un versetto biblico per ciascuno di noi che identifica la nostra chiamata e ve lo vado subito a mostrare prendendo un esempio su tutti l'Apostolo Paolo. In Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 47, è il momento in cui Paolo cita questa frase, questo versetto, che ha poi delineato la sua missione, il suo lavoro, la sua chiamata, perché ogni di noi deve capire attraverso la parola di Dio. Lo Spirito Santo ci porterà a ricevere quel versetto che ci mostrerà la nostra vera chiamata. E quando parliamo di chiamata, parliamo della chiamata dei cinque ministeri. Quindi tra quei cinque c'è una nostra chiamata o perlomeno un ruolo da svolgere all'interno di quella chiamata ministeriale. Ora, Atti 13, 47, cosa ci dice questo brano? È l'Apostolo Paolo che parla e noi lo vogliamo leggere insieme. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Ora, quando Paolo dice questo, in realtà voi sapete che nel Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, cioè quando Paolo si è convertito non aveva il Nuovo Testamento. Quindi a un certo punto Paolo riceve un passaggio del libro di Isaia. Quindi quando lui ha accettato Cristo ha avuto una parola profetica attraverso lo Spirito Santo di un passaggio dell'Antico Testamento, del libro di Isaia, 49,6. Guardate un po', stiamo parlando dello stesso versetto, il versetto che ha guidato l'Apostolo Paolo nella sua missione apostolica. Vedete, lui dice il testo, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Vedete questa frase adesso? Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Questo, Isaia, 49,6, è stato il versetto biblico che ha guidato Paolo nella sua missione apostolica. E quando Paolo riceve questo versetto attraverso lo Spirito Santo, capisce che ormai la linea è tracciata, sa qual è l'opera alla quale lo Spirito Santo lo sta chiamando. E nella chiesa di Antiochia noi abbiamo lo Spirito Santo, che mentre loro celebravano il culto di Giunavolo, dice allora Barnabè, Paolo e Saulo, io li chiamo a svolgere quest'opera apostolica. Vedete quando c'è una parola profetica, che già la parola profetica, vedete un po', parte dalla parola di Dio. La parola profetica, per la nostra chiamata, parte dalla parola di Dio. Paolo ha ricevuto una parola profetica, ma ancor più ha ricevuto una parola scritta nella Bibbia, scritta nel libro di Isaia, che delineava ha il suo tracciato di vita, il suo percorso apostolico, evangelistico. Quindi capite bene che ognuno di noi deve scoprire, deve chiedere, deve pregare, non il versetto preferito perché mi piace quel versetto tipo il Signore è il mio pastore e nulla mi manca, non si tratta di scegliere i versetti che ci piacciono. Prendete del tempo, pregate e dite Spirito Santo, come tu hai parlato all'Apostolo Paolo, parla anche a me e dammi un versetto che lo Spirito Santo nel momento opportuno ti darà o ci darà, in modo che noi sapremo da dove partire. E insieme a quella parola profetica scritta nella parola, Dio potrà attraverso lo Spirito Santo, lo Spirito profetico, aggiungere altre parole, altri percorsi, altri incoraggiamenti. Ma sempre la parola profetica parte dalla parola scritta che è la parola di Dio e questo ci dà modo di essere certi di quello che siamo e di dove stiamo andando. Quindi come vedete questo è un chiarimento fondamentale perché io devo compiere che cosa? Quello che mi dice un uomo o quello che mi dice il Signore, lo Spirito Santo? L'opera è di Dio, Gesù è il capo della Chiesa, lo Spirito Santo è l'amministratore delegato sulla terra per preparare la Chiesa al ritorno di Cristo, ma ad estrare la Chiesa, equipaggiare la Chiesa attraverso quelli che sono i cinque ministeri e quindi vuol dire che all'interno della Chiesa lo Spirito Santo chiamerà alcuni che saranno deputati a svolgere essenzialmente quell'ufficio ministeriale, spirituale, ma tutto il resto entrerà e ognuno in quell'area ministeriale, in quella chiamata. Se uno è chiamato evangelista chiamerà anche altre persone a sostenere quell'evangelista nell'evangelizzazione. Quindi è bello sapere che Dio fa le cose in ordine, Gesù ha lasciato davvero delle chiamate ministeriali, dei ministeri eccezionali alla Chiesa per poter farla progredire, per poterla equipaggiare, ad estrare e poter diffondere la parola di Dio. E infatti qui vediamo questi passaggi. Una volta che lo Spirito Santo ha parlato profeticamente con la parola scritta, dice che il versetto 4 di Atti 13 dice una cosa, che essi dunque mandati dallo Spirito Santo scesero dove? A Seleucia e di là salparono verso Cipro. Vedete, quando lo Spirito Santo manda, manda in una direzione chiara, manda sempre, ricordate, in un luogo preciso, in un tempo preciso. Quindi quando Dio ci chiama, lo Spirito Santo ci manda a operare, non ci manda così senza un obiettivo, una destinazione. Lo Spirito Santo manda sempre i suoi figli, i suoi operai, a un posto preciso, in un tempo preciso, per poter svolgere il lavoro a cui sono stati chiamati. Quindi ognuno di noi deve essere mandato lo Spirito Santo. Non si può esimere da questo. Non sono gli uomini che ci mandano, ma è lo Spirito Santo che manda ciascuno di noi verso delle città, dei paesi, dei popoli, delle nazioni, dei gruppi di persone. Quindi in realtà tutto parte dallo Spirito di Dio. E qui vedrete, in questo capitolo, come a capitolo 13, come lo Spirito Santo sarà sempre puntuale, sempre preciso, nell'indicata strada, in quello che è il lavoro a cui noi sono stati chiamati. In realtà un mandato apostolico, perché sono stati inviati verso delle città, dei territori, delle regioni, delle nazioni. Vi ricordate la parola profetica di Paolo? Luce delle nazioni. Quindi parte il viaggio di Barnaba e Saulo, mandati dallo Spirito Santo. E poi ancora, perché fare che cosa? Siamo mandati per svolgere che cosa? In ogni città, in ogni tempo, in ogni luogo? Quello di annunciare la parola di Dio. Atti 13, 5. Vediamo il testo in questa diapositiva. Giunti a Salamina annunciarono la parola di Dio. Nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Quindi vedete un attimino come l'obiettivo era annunciare la parola, parlare la parola, comunicare la parola. Se volete, vi posso dire in poche battute quanto sia importante comunicare, parlare della parola di Dio. Qui dice annunciare una parola. Ora, non è che facevano dei discorsi dalla Genese all'Apocalisse. Noi non abbiamo ancora compreso che annunciare la parola di Dio o evangelizzare dovrebbe essere soprattutto basato sulla parola di Dio, su una espressione comunicativa della parola di Dio. Io sto iniziando nella nostra chiesa una campagna evangelistica chiamata Passa la parola, che è un passaparola. E ho trovato questo tipo di claim, di slogan, Passa la parola. Che vuol dire? Se io mi trovo al lavoro, ho un incontro tra amici, al bar, per un caffè, una passeggiata e dunque posso avere delle persone intorno a me, io potrei essordire dicendo, oh sapete ho letto qualcosa nel libro dei proverbi dove dice che c'è un potere di vita, di morte nella lingua. Quindi ho capito che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché a volte quello che diciamo influisce su quello che facciamo, cioè comunicare un'esperienza della parola nella nostra vita. Parlare in maniera emozionante, entusiasmante. Oh guardate ragazzi, io sto leggendo questa cosa, questa storia bellissima, una parola di Dio, ci sono delle frasi che mi stanno toccando, mi stanno aprendo la mente. Forse ci vorrebbe da parte di molti credenti un entusiasmo nel comunicare la parola, nell'annunciare la parola. Abbiamo lo Spirito Santo che ci dà forza, intelligenza, capacità di parlare, ma noi dovremmo essere anche noi lanciati in una comunicazione che sia per noi fondamentale. Io penso che molti non riescono a annunciare la parola di Dio perché non la leggono, perché non ricevono e quindi quando non ricevi, non sei contento di quello che stai ricevendo, è logico che poi non ti viene neanche di dire che cosa, di cosa di parlare del tempo, dei debiti, le tasse, il governo. Noi dobbiamo comunicare la parola di Dio con una forte emozione, senso buona, di entusiasmo, perché lo Spirito Santo darà forza a quella parola. Poche parole, ciò che la parola ci comunica, ciò che la parola ci dà come cibo spirituale e darlo al vicino di casa, darlo al nostro collega di lavoro. Passa la parola e passala con gioia. La donna samaritana disse guardate io ho trovato il Cristo, la parola, che mi ha detto questo e attraverso una donna che ha passato la parola, passa la parola, un passaparola, tutta una città fu convertita a Cristo. Per questo l'Apostolo Paolo, Saulo e Barnaba, iniziarono ad annunciare la parola di Dio. E cosa è successo? Che quando tu comunichi la parola con forza, con entusiasmo, con gioia, con franchezza, con libertà, confidando nel Signore, trasmettendo quello che la parola di Dio ti dà, troverai sempre delle persone che ascolteranno e vogliono, vogliono ascoltare la parola. Versetto 7 del capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Guardate cosa dice. Avviene qualcosa di miracoloso, il quale era con il proconsule Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Wow, eccezionale. Guardate, quando uno ascolta la parola, gli viene voglia di ascoltare di più. Dice che questo proconsule, un uomo politico, una persona di autorità, fu toccato da come Paolo e Barnaba comunicavano la parola. E lì che fu un'attrazione, disse, scusate, voglio ascoltare di più, fammi capire questa cosa. Vi ricordate un altro politico, un certo governatore di Etiopia, il quale a un certo punto, mentre cercava di capire la parola, Filippo si avvicinò e disse, senti, io voglio capire questa parola, la sto leggendo, ma francamente non riesco ad afferrare. E Filippo dice, tranquillo, lo Spirito Santo mi ha mandato qui per dirti tutto quello che è il messaggio del Vangelo. E cosa successe? Che ascoltando, ascoltando la parola del Signore, il governatore Etiope disse, io mi voglio battizzare. Alleluia. Questo proconsule fu così attratto, così toccato, che disse, scusate, li presi in disparte, mi spiegate meglio questa parola, che possa avvenire questo nella tua vita, che tu possa essere un comunicatore entusiasta della parola di Dio, che tu inizi a passare la parola di Dio, passa la parola, annuncia con forza, con gioia, perché c'è gente che sta ascoltando, ma nessuno vuole ascoltare. Guardate, sulla croce due ladroni, uno non ascoltò e rifiutò, l'altro accettò e fu introdotto nel regno di Dio. Sappiatelo, c'è chi vorrà ascoltare e chi non vorrà ascoltare, ma noi comunichiamo la parola a chi ha sete di Dio, a chi ha fame di Dio, a chi vuole ascoltare la parola potente di Cristo. Sì tu uno che, quando parla, la gente dice, voglio ascoltare, voglio sapere di più. E quando noi troviamo questo, purtroppo, cosa succede? Che quando noi iniziamo questo lavoro, guardate un po' cosa accade, che c'è questo uomo politico che ha a fianco un mago, un falso profeta. Non so se avete notato, avete fatto questa riflessione, molti uomini politici, attori, artisti, cantanti, sportivi, a volte si rivolgono spesso o hanno accanto a loro? Uno che esercita arti magiche, magia, stregoneria, falsi profeti, perché stanno lì a inculcare le loro idee. Allora vedete che Dio possa usarsi di te, proprio a quella persona che tu hai al tuo fianco, al lavoro, al tuo titolare, al tuo imprenditore. Forse conosci un uomo che è in autorità, uno sportivo, un giornalista, un attore, musicista. Sappi che andrai a scontrare sicuramente un potere maligno. Ma, ma, cosa ci dice questa parola Atti 13 9? Che quando noi andiamo ad annunciare la parola, le persone ascoltano, allora lì devi far uscire da te la potenza dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. Cosa dice? Che Paolo a un certo punto si infastidisce, vede che questo sta distogliendo la parola di Dio e dice allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse poi al mago, disse guarda, uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, mamma mia, parole forti queste, nemico di ogni giustizia, non è, non cesserei mai di pervertire le vie delle rette del Signore, vedete, prende autorità, lo sgrida, sgrida lo spirito maligno, cerca di farlo tacere, addirittura poi dice ecco ora la mano del Signore continua dicendo e su di te e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole in quell'istante, vedete che potenza della Paolo, oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per mano, oh che potenza di Dio, ecco quando tu sei impregnato di questa parola, quando sei pieno di Spirito Santo, sei pieno di Spirito, sprigiona questa potenza, dice lo Spirito Santo che verrà su di noi e saremo testimoni pieni di quella potenza di Dio, perché questa potenza? Per sconfiggere ogni attacco demoniaco, per liberare le persone da ogni oppressione, da ogni distrazione, da ogni cosa che va ad allontanare, vuole allontanare il Vangelo, a pervertire la parola di Dio, ecco perché devi essere impregnato di Dio e Spirito Santo. Efesini 5,18 dice siate ricolmi di spirito, non ubriacate, il vino porta alla disolutezza, ma siate ricolmi di spirito, vogliamo essere pieni di Spirito Santo per annunciare la parola di Dio con potenza. Il risultato finale, eccezionale, atti 13,12, dice che a un certo punto questo proconsole, ascoltando, ascoltando, vedendo la potenza dello Spirito Santo attraverso Paolo, ci dice questo versetto meraviglioso, atti 13,12, allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette. Alleluia, mi piacciono questi versetti. E alla fine cosa dice? Che credette alla dottrina del Signore, colpito dalla dottrina del Signore. Vedete, alla fine la parola di Dio porterà frutto. Dice un altro versetto che la parola di Dio, quando viene predicata, annunciata, non torna mai a vuoto. Ogni giorno, quando parliamo della parola, vedete, in questi versetti, in questi cinque aspetti, noi vediamo quello che sono i cinque ministeri. Quando parliamo di Paolo che è mandato, insieme a Baraba, dallo Spirito Santo, mandati lo Spirito Santo, è la chiamata apostolica. Quando va a annunciare la parola di Dio, quella è una chiamata evangelistica. Quando vediamo una persona che ascolta la parola di Dio, lì c'è una chiamata pastorale. Quando poi vediamo che Paolo, pieno di Spirito Santo, lì parliamo di una chiamata profetica, che sconfigge ogni attività diabolica, demoniaca. E poi, quando ci dice che credette alla dottrina del Signore, lì emerge la chiamata dell'insegnamento. Vedete come l'opera alla quale lo Spirito Santo ci ha chiamati si manifesta sempre in queste cinque aree ministeriali. Quindi, quello che tu devi capire oggi, chiedendo al Signore quel versetto profetico, come è stato per Paolo, oggi lo devi anche realizzare anche nella tua vita. Il Dio è Spirito Santo. Qual è l'opera alla quale mi hai chiamato? Perché io possa essere mandato da te verso un luogo, una realtà ministeriale, perché io possa annunciare la parola di Dio, che io possa vedere persone ascoltare questa parola, che io possa anche avere quella pienezza, potenza di Spirito Santo per sconfiggere ogni attacco demoniaco e poi vedere le persone che credono accettando la dottrina del Signore. Ora, io credo che questi semplici passaggi possono aiutare molti di voi a capire qual è il ruolo, perché non si può stare nel re di Dio pensando soltanto di ascoltare e pregare e stare seduti su una sedia. Quello si chiama ministerio della sedia ed è di tante persone che stanno sedute e ascoltano, e ascoltano, e ascoltano. Ascoltano tante cose, vedono anche tante cose tramite internet di insegnamenti, prendono, 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 ma alla fine stanno sempre su una sedia. Io li chiamo quelli del ministerio della sedia. Invece noi siamo chiamati ad alzarci e andare, ad annunciare la parola di Dio. Infatti cosa ci dice? Che Paolo e Barnaba si alzarono e andarono, mandati dello Spirito Santo, con una chiarezza bella, forte. Io so dove sto andando, noi sappiamo dove stiamo andando, perché lo Spirito Santo ci sta indicando la strada. Ora, in questo momento, io ti chiedo alla fine di questa giornata, rifletti un attimo, metti davanti a Dio, dicendo Signore, so che lo Spirito Santo ha un piano per me, c'è un bisogno di Dio per ciascuno di noi. Noi siamo chiamati a lavorare nel re di Dio, nel re di Dio esiste il lavoro, e il lavoro che conta. Sicuramente accompagnato dalla preghiera, dal digiuno, dalla lode, dal canto, che sono elementi importanti, ma in realtà il grosso del lavoro è proprio quello di annunciare la parola di Dio, di conquistare anime. Gesù ha detto a Pietro, io ti farò pescatore di anime. Non ha detto staremo lì a cantare la mattina e la sera tutto il giorno. Io non voglio denigrare questo, non sto dicendo questo, però molti forse gradiscono più stare in chiesa a cantare e a pregare che invece andare a trovare delle persone nel mondo del lavoro, della politica, di qualsiasi area della nostra società e andare a portare invece quello che è il vero risveglio. Il risveglio è questo che abbiamo visto. Il risveglio è quando io sono chiamato da Dio ad andare e sono chiamato ad andare perché devo parlare di Cristo, perché devo annunciare la parola di Dio. La gente deve ascoltare la parola, deve cambiare, deve essere trasformata, come questo proconsole che ascoltò questa parola e fu aiutato a liberarsi da quello che era un'oppressione demoniaca. Quando io ho da pregare e la gente viene liberata dalle possessioni demoniache, quello è il risveglio. È il risveglio di Cristo che entra nella vita una persona e lo libera da ogni legame. E quando una persona dice adesso io credo e mi voglio battezzare, quello è il vero risveglio, apostolico e profetico a cui noi siamo chiamati. Bene, io adesso voglio davvero pregare perché voglio dare spazio ai miei fratelli meravigliosi che stanno già pronti per poter consegnare e insegnare altre cose. Io voglio veramente che lo Spirito Santo possa in questo momento, soprattutto voglio pregare che Dio possa darvi questo versetto biblico. Partiamo da questo punto. Una preghiera che voglio fare è che Dio possa darti rivelazione di questa frase. Lo ha fatto per Paolo anche io. Io ho il mio versetto che Dio mi ha dato e in quel versetto biblico io capì qualche anno fa, dieci anni fa, che la mia è una chiamata apostolica. E oggi continuo a fare quel lavoro, so di alzarmi le mattine e sapere cosa fare, qual è il mio ruolo nel Regno di Dio, qual è il mio lavoro. Io lavoro nel Regno di Dio, per questo la mia chiarezza mi porta a capire, a conoscere l'opera che Dio mi ha chiamato a fare. Io so che sto svolgendo un'opera a cui lo Spirito Santo mi ha chiamato e voglio essere ligio a questo impegno, fedele a questo lavoro e rimanere in quella rotta. Sapete, quando Gesù dice che c'è una via stretta e una via larga, sapete cosa vuol dire? La via stretta vuol dire che è una via che ha dei confini e quindi tu non devi sbagliare. È stretta perché è quella alla direzione. La via larga invece non ha nessun confine, uno va a destra a sinistra, invece con la via stretta, quella via, confinata, tu sai che è la strada. Per questo voglio pregare in questo momento, perché Dio dia rivelazione e che ognuno di noi possa capire l'opera alla quale lo Spirito Santo ci sta chiamando, perché se c'è questa chiarezza faremo un grande lavoro in questa nazione. Quando c'è chiarezza, rivelazione del nostro compito, della chiamata che Dio ci ha dato, tutti quanti possiamo lavorare bene insieme, ognuno nel suo campo, distinto, chiaro, perché chi fa le squadre è lo Spirito Santo, è lui che stabilisce con chi lavorare o con chi non lavorare, non per mancanza di rispetto o di amore, ma per ordine, perché lo Spirito Santo è Dio di ordine. Per questo lui stabilisce le squadre di lavoro, perché lui ha il disegno completo, la mappa generale dell'attività lavorativa del Re di Dio, e io voglio soltanto seguire lì dove mi dice di andare, non a destra o a sinistra, ma dove lui mi dice di andare. Per questo preghiamo, preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, ti ringraziamo per la parola che ci hai dato, una parola chiara, semplice. Vogliamo in questo momento chiederti, il Signore rivela attraverso il tuo Spirito e la tua parola scritta, un versetto che possa parlare, il versetto che possa darci la chiarezza per il lavoro da svolgere, l'opera da svolgere, la chiamata che tu hai segnato e disegnato su ciascuno di noi. Padre, vogliamo seguire le tue orme, vogliamo seguire in maniera corretta quella che è la linea dello Spirito Santo, una voce chiara, specchiata, e vogliamo ubbidire a quella voce, come hanno fatto Paolo e Barnaba, ascoltando la tua voce e ubbidendo e andando, mandati dal tuo Spirito per annunciare la tua parola. Signore, fa che sia un annuncio fatto con chiarezza, con gioia, con entusiasmo, con franchezza, confidando in te, Signore, con la fede in quello che noi diciamo e ti chiediamo, Signore, che già tu possa preparare quei cuori pronti ad ascoltare questa parola. Come dice la tua parola, la messe è pronta. Signore, vogliamo vedere un raccolto già pronto da mietere e persone che sono pronte ad ascoltare questa meravigliosa parola della tua grazia. Signore, fa che lo Spirito tuo Santo ci dì adesso potenza, pienezza, che l'unzione e la tua potenza, Cristo, ci aiuti a guarire tutti quelli che sono sotto il potere del diavolo e liberarli nel nome di Gesù, dichiarando il tuo regno di pace, di giustizia e di gioia. E fa che possiamo, attraverso la potenza e lo Spirito Santo, liberare ogni cuore da ogni oppressione e depressione e poter infondere quello che è la tua dottrina, Signore, una dottrina di grazia, di forza, di sapienza, di intelligenza e di gioia. E possiamo in questo tempo fare una grande raccolta e che questa parola possa raggiungere ogni cuore in ogni sfera della società. Ti ringrazio, Padre, perché so che tu lo farai nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen.